Oltre il danno la beffa, è l'opinione del senatore del Carroccio Massimo Bitonci sulla vicenda dei soldi che il comune di Cittadella deve a quello di Padova per la gestione del bimbo conteso. Il danno al minore ormai è stato fatto, dice l'ex primo cittadino, si poteva evitare di finire sui giornali per la questione economica. Direi che oltre tutto quello che è successo, che ha dato anche una cattiva immagine a livello italiano della città, oltre il fatto che un bambino è uscito su tutti quanti i media, su tutti quanti i quotidiani, senza quindi garantire la privacy di un minore, adesso si ritrova il comune anche a dover pagare questi 10.000 euro. Io penso che sia una cosa non giusta, non corretta, i comuni devono sì pagare i servizi sociali, ma questo è un caso particolare. Bitonci rilancia l'idea che siano gli stessi genitori a pagare le spese di assistenza sociali e delle comunità. I genitori, che poi sono coloro che hanno provocato questa situazione, perché i bambini devono stare assolutamente fuori dai litigi tra i genitori. I genitori non sono delle persone incapienti, sono delle persone che possono tranquillamente pagare una somma di questo tipo, quindi lo trovo una decisione ingiusta da contrastare.